Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati in questo nuovo video Oggi siamo con Tonale Bella E Franci E Franci Ok E giochere barocchettica Siamo nell'episodio numero 6 No, stagione Siamo i primi con una vincera dai secondi Siamo contro i secondi In serio? Andiamo bene Sono serio Perché non si era manco accorta E 3 E 2 3, 2, 1 Ma quanti forse lo stico Un po' alto Un po' Si va bene Bravo Franci Il nostro salvatore Da 1 a 0 Stiamo contro i secondi Che cosa è questa? Mi ha anche E' una catterata Ma è un po' Mi ha anche Mi è un po' E' un po' E' un po' E' un po' E' un po' la norma farò farò io farò che faccio vai ci troppo arrivo vai ci troppo no c'è l'antica oh no grandi cosa ho fatto dai boss ne stiamo assomando ahhh aiutato e no è possibile non ti devo fermarmi aspetta va a vedere ho fatto quella decommata a fermarmi va a ferma vai raga vai raga aia aia devo tenne mezzo baa braaa miro qui dUSINHMG no no attraverso la pala bazzata No, è l'ho fatta. No, è l'ho fatta volando, è l'ho fatta volando. No, è l'ho fatta. No, è l'ho fatta. Guarda io. E' l'ho fatta volando. E' l'ho fatta. E' l'ho fatta volando. E' l'ho fatta volando. Sono volate. Lascia, lascia. No, è l'ho fatta. No, è l'ho fatta. Non mani la strana che è quello che ha. Oh, lascia. No, è l'ho fatta. E' 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 l'ho fatta. C'è l'ho fatta. C'è l'ho fatta. Dovrebbe fare nelle mode. Si può anche cambiare la dimensione della porta. E' l'ho fatta. C'è l'ho fatta. C'è l'ho fatta. Oh, mamma mia cosa ha fatto. Quello era il migliore che abbia fatto in un'intero No che merda Dai, entrare Eh, tira Eh, tira No, no, non è così Oh forse, no La volevo un po' spostare Vai Vai, tira Tira Bravo Ale, tira Perché non hai preso la palla? Perché non ce la riuscivo mai Non ci riuscivo mai, la tiravo una merda Perché ti hai fermato? Sto andando sempre dritto Sto andando dritto Ti hai fermato? Vabbè, vabbè, vabbè L'ho ancora messo il turbo, il diverso Ma lo so Però che avevo 12 di turbo Se non ci sarei che la vissima è un'altra cosa Lei non stavo guardando ieri e io sono aperato si spavole Che palle si spavole si spavole si spavole si spavole si spavole Per l'opera che cosa ti fai tu? Se non ci fai tu fai io Se non ci fai tu Se non ci fai tu fai tu Mi chiedevi che ci sarei venuta Si Hai pensato nel partiere Avevo appena tirato E' torno, tu lo canterei per tornare, non lo usi per tirare Allora lo tiro stuputamente senza favore No E tu? Vado io Basta con i piedi Luca Pensavo che è fantastico, uno dei due Ma come ti devo salvare? Saltami per rinnovarti te No, no, non mi salvi per rinnovarti Dai Sì, lo canti Sì, lo canti Non c'è gioco mai In c'era il cross Io non sollevava mai la buttavo sul pal Vado io No No No, ho fatto il cross brutto Dico sempre di non esagerare No No Cosa avevo fatto? Cosa avevo fatto? Con il mezzo Senza interruzione No Che spressione magnifica Quante cose ho avuto In una relazione si condivide tutto Dall'ultimo Non farà la scelta Se non lo prendere il turbo No No Non lo prenderò il turbo No 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 In quanto tempo di spumentare Ma sei zitto Te l'ho fatto per stare io E appunto Perché le ho fatto per tornare? Perché le ho fatto per tornare? Ma era un mare che la toccava? Se te l'ho spinta Mi stavo tornando E me l'hai spinto E che l'ho fatta apposta? E tu allora perché te l'hai sentita apposta? Io non l'ho spinta apposta Appunto Ma io sono stato diverso Se non ti ho saltato male Ma in mia casa avevo che spingendola andava in quella direzione Eh Va bene Vabbè la cannaé Scusa Ho più saltane Scusa Eh Non ero giunto Guarda qua Guarda qua Guarda qua Vette io in porca No Stavo già giuntando io Eh appunto No Io spero Scusa Buongiorno Guarda su Scusa Scusa bellissimo basta basta bene io me le torno in porta io in porto ero già arrivato vai raga vado mette a me no non mi sta là è bella mette a me no che fortuna mamma mia bravo solo ci sono no dove lasciarla la scarnavo dentro io rimbalzavo un po' non rimbalzavo vabbè non rimbalza la palla ma non era così alto io non ero alto ho fatto così salto e furbo ho fatto mamma mia che l'ho dubbiata che fortuna vada lascia vabbè vado passare solo vabbè vabbè dim vabbè dim basta spingerti oh no no mi ha atteggiato scusa io no no mamma c'è un contorno che sono come il contorno no perché dove si sta in porta no merda è appunto erano i due a tirare non era dentro la porta ah no la stava parando parando si non sapeva male l'ha levato poi è entrata però però io l'avevo tolta no lui era dentro la porta in mezzo no a lei non fai le cavolate con il palo non 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 ma questa è bella bella Lasciate Vai, dimmi lasciare, ma se sei lento quanto l'anno è da fare E' perchè se devo avanzare non posso saltare il turbo, vado la scavola Dai che... Quella è una del filtre, io ero pronta a prenderla solo in palla Ah, mai ti ho dovuto andare incontro alla palla Mamma mia Marcello Vai Cross, Pipo Continuo io Bellissimo Bellissimo Vedo Ok, io me le torno, raga Ok, no, no Ok, che scannata ho fatto Oddio Oddio, raga Ma perchè la devi sempre prendere? Perchè che micchia non so che ci siete, dite ci sono almeno Tu l'hai toccata? Basta, vero che non hai gol, non la prendere Mamma mia La mia l'ho legge... Non era questa No, c'era la musica Non l'era con la musica Cioè, stava saltando La prendi la La prendi... No, vabbè raga 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 Mammut ed express No, vabbè raga E' una minchia Che fighe i taralli rossi, no I taralli Come nella mappa dei pesci Perché lo faccio sta cavolata? I taralli I taralli I taralli Perché ho detto i taralli? Lasciatemi Ah, penso che sei buc' Ha detto la 100 euro quando stavo sulla palla Come lo sto facendo la palla? Come lo sto facendo la palla? Uhhh Mamma mia, marci Ma io, è perfetto Vai La tabu gui Io più la ho sto facendo una tassi Così Guarda com'è Così di ruota E lo sto facendo così La pinta è se di giuro Dalla Batti Batti Guarda No, non è vero Si è notata Madonna No, dai raga, dai su Agiar Ponte, no Mamma mia, stavo marcando foto io ci trovavo però l'ho trovato no mi sono incastrato con il palo madonna grande bravissimi 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 quello che è questa è la trattativa io lo so questa è io devo prendere il tubo non lo avanza tu devi prendere il tubo c'ero io oh mamma mia io no no perché vado io a costarla per una volta oh oddio da dove sono partito guarda da dove guarda da dove millimetrico si va millimetri si sono arrivata ho partito dal tubo dal tubo dal microfono della porta non da pure la porta no 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 c'ero io uo e tu come vale tu guarda dopo questo guarda che ho fatto guarda lì guarda lì guarda lì poi allora non avresti mai più io non si, la palla era in quella traiettoria, stai dicendo con la vediata perché appena è che stai rotto l'altra però è che stai figando in merda, madonna, non fai più di paliera dai però Gianni senza turbo mezzo a tutti sono passati ho fatto lo trago volevo fare tepletto dai va tu c'è la volta no, cosa? me l'ha parata per la prima volta in tutta la mia vita te la febbra non sapevo no dai basta e centrale questa era praticamente centrale c'è la palla dietro di me bello i due ditti che si aprono perché io ero velocissimo non ho avuto tempo di fermarmi che ho dovuto saltare guarda tu guarda perché ero troppo veloce io ero troppo veloce mi credo che io avevo già saltato pure 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 che c'è? ho fermato bellissimo che stoppio aspetta chi ha fatto il gol? passapalle eccole fatta nessuno l'ha fatto il gol perchè era fuori cioè guarda ah l'ho toccata io era furissimo no però l'ho toccata io nell'assist beh però che l'ho fatto non gol a me ne fate 3 eh io lo faccio 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 ho bello te lo faccio lo faccio lo faccio ah ma che costituito ma che costituito noo basta mi hai passato va bene va bene va bene No, non è una partita! Sì, 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 sì. E dobbiamo ammattitare! Sì! sì il giurato il giurato il giurato il giurato Cosa avevo fatto? Chi è che aveva fatto il 3-2? Però guarda 3-3-1 2 assi 3-3-2 3-3-2 Ma io non lo so Ah, che stava grande a voi Mi intresa appattata tutti No, non è la sua camionina Adesso la torta, la diamo la Ma tu non è stato passata? Ma io non lo so Ma io non lo so Non lo so Ma io 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 non lo so vai mamma mia te la volevo stoppare eh appunto è sbagliato io che cammino su te dai un po' la campagna sono schifo no saltate uno ci sono no no la paro volevo farla no aia non ci credo non ci credo la versa io 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 quello che va a farci me non lo so io sono la nuova non lo so la brezza vai franz vai franz per me per me per me per me a fare la brezza vai franz per me ai è perché a me ha fatto per entristanno sfidato solo con un tifo la prende la scuola vai giustamente che collo che giuntaccia che ho fatto mamma mia signori si vede la guardata mia nooo perché sono conto ea guarda quanto rischiate franchi basta inizio in volo non ho sbagliato grande che meglio io che gol aspetta la non entra o forse si ma c'ero io dietro ma un giorno la ci intendo l'entravo si guarda non c'è la pace di mai si perché non riesce a toglierci dalla testa che parla d'amore grazie alla prova gratuita disponibile per un mese puoi dimenticarti della riproduzione casuale per ascoltare tutti premi che vuoi compresa quella canzone quando quando ne hai voglia tocca il banner per sapere di più mia no cosa c'è di meglio che avere milioni di canzoni a portata di polpastrello gratis sempre c'è avere anche migliaia dei podcast più seguiti al mondo a portata di orecchio su Spotify puoi ascoltare show internazionali comici di politico di trattenimento sportivo di business sui gatti sul business dei gatti che fanno sport su business dei gatti praticamente qualsiasi cosa desideri qualunque sia la tua nicchia preferita Spotify ha il podcast che fa per te tocca il banner per scoprire le trasmissioni in corso grazie per aver ascoltato Spotify davvero avresti potuto ascoltare l'arabia che tiro che ho fatto no ma quale portiere guarda 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 ripartire guarda ripartire sicuramente una porta puce la ripreparata si vabbè dai l'avevo fatta pure volando fortissimo quindi niente Marcello questo è un intervento Marcello è un'altra ma non si è già fatto che farsa c'è il genio guarda non è una serata lo dico la classifica chi marca di più farebbe il miglior difensore il mio pensore chi prende la palla di difendono e smarca di più perché il mio riveltore è mica solo massimo ma in tutto quel senso chi è il miglior difensore che marca in difesa che prende le palle che prende le palle tu e il calcio proprio sei tantissime cose e l'angolino era imparato non sapevo se era sul panno o è un golino un parapide del culo ah no ok che 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 Sì, non è vero. ah ah che presa ottimo che c***o mi ha volato un paio da c***o non sto cercando aspetta te lo devo far vedere guarda ah no guarda che ha il decimo c***o e nella nostra porta nooo Luca si si hai fatto l'appoggio della vita guarda l'appoggio della vita grazie grazie aspetta dai Luca che c***o che c***o abbiamo visto devo vedere un attimo ma quanti gol abbiamo fatto 108 8 8 8 8 8 4 partite grazie bello bello bella 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 bella